Tre motivi per cui devi creare contenuti. Oggi voglio rispondere ad Annalisa che mi scrive una lunga mail ma riassumendo mi chiede o meglio non è chiaro il motivo per cui in molti tante persone dicono che sia così importante creare contenuti. Nella pillola di oggi ti dico i tre motivi principali che mi vengono in mente per cui è così importante creare contenuti. Ma prima di rispondere a questa domanda ci tengo a ricordare a tutti come potete iscrivervi alle mie pillole di business via mail e tutte le mattine alle 7 in punto riceverete una mail riguardante marketing, business e crescita personale. Ci legge in pochi minuti, 2-3 minuti, è gratuito, ci si cancella con un clic nel caso non vi piaccia quindi andate su pilloledibusiness.com ed iscrivetevi. Ora tornando alla domanda originale, perché è così importante scrivere i contenuti? Punto numero 1. Prima cosa ci permette di presentarci alle persone, fargli sapere chi siamo, come lavoriamo, cosa facciamo e quindi ci velocizza tantissimo il processo di vendita. Immaginiamo di essere dei venditori, di dover andare a incontrare delle persone e spiegare tutto quello che facciamo. Magari abbiamo un prodotto complesso, comunque qualcosa che richiede del tempo per essere effettivamente spiegato. Potrebbero passare ore per far capire al potenziale cliente tutto ciò che noi facciamo. Ecco, tutta questa parte può essere, tra virgolette, eliminata grazie ai contenuti che andiamo a fare. Ad esempio, se un nostro potenziale cliente si vede 2-3 ore di video nostri dove spieghiamo e presentiamo il nostro prodotto, benefici che avrà, i vantaggi che ha rispetto alla concorrenza, eccetera, sicuramente ci semplifica la vita perché tutta la parte di spiegazione è già stata fatta e quindi diminuisce tantissimo questo lavoro. Il secondo punto è che tutto ciò che noi facciamo, che andiamo a costruire, che andiamo a creare, ha il grandissimo vantaggio di lavorare uno a molte, nel senso che se ci presentiamo da un cliente possiamo fare una visita alla volta, se facciamo un video possiamo mandarlo a mille persone e potrebbero ipoteticamente guardarlo mille persone contemporaneamente e questo ci veramente permette di scalare il business o comunque di velocizzare tantissimo tutto questo processo. Infine, il terzo punto è che tutti i contenuti che facciamo possono essere trovati dai clienti, quindi indirettamente possono diventare dei canali di acquisizione clienti perché una persona fa una ricerca su Google, fa una ricerca su YouTube e potrebbe incappare nei nostri contenuti. Oppure una persona guarda il nostro contenuto e ne parla con un amico che invece di fargli fare una telefonata e chiedere un incontro, prima vuole effettivamente vedere chi siamo, quindi si guarda, si legge, si ascolta i nostri contenuti e inizia a stringere quella relazione che è necessaria poi per riuscire a fare una vendita. Questi sono i tre motivi principali che mi vengono in mente ma possiamo scavare a fondo e tirarne fuori veramente una marea perché i contenuti che noi facciamo, quindi quello che scriviamo, quello che diciamo, ci identifica, le persone ci percepiscono in un certo modo e quindi sono estremamente, estremamente importanti. Quindi se hai un'attività e non hai alcun tipo di contenuto o nei pochi, sappi che stai perdendo un'occasione incredibile per riuscire a sviluppare il tuo business, quindi davvero faccia un pensierino. Con questo è tutto, spero di aver risposto ad Annalisa, io sono Massimo Martinini e ci sentiamo domani. Ciao! Aggiungo, cosa si intende per contenuto? Qualunque cosa una persona possa usufruirne senza bisogno della nostra presenza, ad esempio un video su YouTube, un articolo sul blog, un libro, un podcast, qualunque cosa una persona possa fruire e quindi avere accesso alle nostre informazioni senza bisogno del nostro tempo. E questo, ripeto, è incredibilmente importante per riuscire a velocizzare e a scalare il proprio business. Con questo è tutto davvero e ti saluto. Ciao!